Riforma della sanità, parte da Sondrio il nuovo corso, valtellina sci, chi apre e chi no. Efficiente ma costosa la giustizia nella nostra provincia, SECAM, acqua sicura e di qualità e come sempre lo sport Cross de Pradesh, tutti in corsa per il titolo provinciale. Questo è d'altro nel notiziario di TSN, benvenuti. Una notizia di cronaca in apertura, un colpo talmente insolito da non destare alcun sospetto, quello messo a segno domenica a Gordona. Una coppia di ladri è riuscita a far razzia di preziosi in un appartamento della zona all'ora della messa, quando gran parte della popolazione era in chiesa, escogitando un attravestimento perfetto. Mentre uno dei malviventi si è introdotto nella casa, il secondo ha agito da palo, camuffandosi da spazzino, con tanto di ramazza e paletta, fingendo di raccogliere mozziconi e foglie secche. Una figura che non ha destato alcun sospetto, tanto che i due ladri sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce. Quando i proprietari sono rientrati nell'abitazione, non hanno potuto far altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Ed ora l'ampia pagina dedicata alla riforma della sanità, oggi il Presidente di Regione Lombardia Maroni all'ospedale di Sondrio per presentare le peculiarità. Vediamo. Il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni all'ospedale di Sondrio per presentare la riforma sociosanitaria davanti ai referenti del territorio e al Direttore Generale di AOVV Maria Beatrice Stasi. Approvata lo scorso agosto, tra le principali novità della legge regionale che entrerà in vigore il 1 gennaio, l'istituzione dell'ATS, la vecchia ASL, che perde attività ambulatoriali e prende il nome di Agenzia per la tutela della salute, che accorpa a Valtellina e Valchiavenna anche la Bresciana Valcamonica e l'Alto Lario Comasco, una scelta che anticipa l'imminente cancellazione delle province prevista per la fine del 2016, sostituite da enti di area vasta o omogenea, come preferisce definirli il Governatore, con delega welfare e riforme. Io non voglio che per i cittadini cambi qualcosa nel senso, oddio adesso cosa devo fare, dove devo andare, voglio che cambi nel senso che si sentano più seguiti, più curati, più o con maggiore attenzione, questo è l'obiettivo che noi abbiamo, la programmazione di tutta l'area montana è utile per dislocare meglio le risorse, non dobbiamo chiudere ospedali, non abbiamo necessità di tagliare. Accanto alla TS nascerà la SST, azienda sociosanitaria territoriale, che invece prenderà il posto dell'azienda ospedaliera, cui quartier generale potrebbe restare proprio nel capoluogo valtellinese. Cambia il nome ma anche gli organi di controllo con due direttori generali, uno con funzioni simili all'attuale, il secondo invece seguirà la parte socioassistenziale, dalla dimissione dei pazienti al termine delle fasi di riabilitazione e recupero. Entrambi saranno scelti da un organo formato da esperti su 700 curriculum vitae selezionati per meriti e competenze fuori da preferenze politiche. La qualità del lavoro e dei servizi erogati sarà valutata costantemente dal customer care per garantire la massima efficienza delle prestazioni. È previsto che noi possiamo adottare dei modelli organizzativi un pochino diversi da quelli che verranno adottati nelle altre ATS, nelle altre SST. Questa sarà una delle sfide che avremo dal primo gennaio e chi ci sarà avrà dal primo gennaio delle nuove aziende che si vanno costituendo. Oggi, spiega Maroni, la sanità valtellinese gode di buona salute, visto che l'83% dei residenti si rivolge agli ospedali del territorio, che qui, come in Valcamonica, sono solo pubblici. Nota dolente, seppur solo in parte, quella legata alle risorse. Il fondo sanitario per il 2016 è ridotto di 2 miliardi rispetto agli accordi presi. C'è un aumento di un miliardo sul 2015, è vero, ma c'è anche un aumento di spese obbligatorie per un miliardo e otto. Quindi il bilancio per le regioni l'anno prossimo sarà, rispetto al 2015, sostanzialmente meno 800 milioni, almeno 800 milioni. Rispetto ai 3 miliardi, quindi, che noi avevamo concordato, non chiesto al governo, c'è un taglio di 2 miliardi. Questo ci renderà la vita molto difficile. Noi, anche per questo, anticipando questa cosa, abbiamo fatto la riforma e noi prevediamo che la riforma porti a regime un risparmio di 400 milioni di euro. Quindi le maggiori risorse che deriveranno dal dimezzamento delle asla, dalla concentrazione degli appalti nella stazione unica appaltante regionale, dalle economie di scala che faranno le nuove strutture, verranno lasciate sul territorio nel sistema socio-sanitario. Nuove prospettive di collaborazione tra ospedali si apriranno in particolare con la vicina Svizzera, grazie alla macro-regione alpina, che accorpa 7 paesi e 48 regioni. Ci mette la faccia il governatore perché la legge regionale sia d'esempio per l'intero stivale. Sei mesi la fase prevista di start-up per scoprire se la scommessa si rivelerà vincente. Una notizia di viabilità dopo l'esecuzione del primo lotto di lavori di ripristino della strada provinciale numero 8 per il passo San Marco avvenuta la scorsa estate, è stato recentemente approvato il progetto esecutivo per ulteriori interventi sulla medesima strada dall'importo di circa 70 mila euro parzialmente coperti dall'economia sull'intervento precedente. Attualmente è in corso la gara per l'affidamento dei lavori, la durata degli stessi dipenderà dalle condizioni meteorologiche. Solo una parte potranno essere realizzati nel corso dell'anno corrente. Le opere consisteranno nella riparazione di un tratto di muratura, nella realizzazione di un tratto di tubazione di drenaggio e poi nella costruzione di un tratto di copertina di cemento armato e nella posa della barriera stradale. Pochi fiocchi in provincia ma la stagione è ormai alle porte. Vediamo chi è pronto per l'appuntamento di questo fine settimana. L'autunno a Varo di Fiocchi fa partire al singhiozzo la nuova stagione invernale. I cannoni spalaneve, azionati in tutte le località scistiche senza tregua, grazie all'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, non hanno però fatto il miracolo di poter inaugurare il 28 novembre la stagione sulla neve. Sono infatti pronte alla chiamata soltanto un ivigno emadesimo, dove si potrà sciare già da questo fine settimana. Partendo dal piccolo Tibet, a oggi sono garantite l'apertura dello ski lift American e della pista tre palle al motorino, mentre in via di definizione con confermentro domani la possibile apertura della pista tagliede sul versante Carosello 3000. Per gli appassionati delle cistretti, aperto l'anello nella piana centrale, coperto da innevamente un programmato, dove da diverse settimane si stanno allenando anche diverse squadre nazionali in vista dei primi appuntamenti internazionali. Spostandoci invece in Val Chiavenna, saranno in funzione la cabino via Larici e la seggio via Cimasone, che permetteranno l'accesso alla pista Vanoni, da quota 2150 metri a 1900 metri. Si dovrà invece ancora appazzentare una settimana per i comprensori di Bormio, Santa Catrina, Val Furva, Val di Dentro, Aprica e Val Malenco, dove nonostante da sette giorni i canoni sparanevi stanno lavorando a pieno regime, il manto nevoso non è ancora sufficiente da garantire la discesa in piena sicurezza. E anche se i fiocchi sembrano farsi desiderare, sarà certamente perfetto l'innevamento per il weekend dell'Immacolata, nel quale le nostre piste saranno in ottima forma. Natale si avvicina e con esso tutte le iniziative che caratterizzeranno questo periodo di gioia, come ogni anno Sondri offre un ricco calendario di manifestazioni rivolte a tutti, grandi e piccini che si svolgeranno per tutto il periodo natalizio e che spazieranno dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalle mostre ai mercatini, dalle visite guidate. Al pattinaggio si parte sabato 28 novembre con l'inaugurazione della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi alle 14.30. Ed ora parliamo di giustizia, questa volta facciamo i conti alla procura. Vediamo. Efficiente ma costosa, la giustizia Sondrio vince in termini di qualità, ma paga l'alto costo intrinseco degli strumenti necessari per svolgere le attività di indagine, come intercettazioni telefoniche e ambientali, per le quali se ne vanno circa 500.000 euro all'anno. È uno dei dati più rilevanti che emergono dal bilancio sociale della procura, presentato ieri in tribunale dal procuratore capo Claudio Gittardi, arrivato nel capoluogo valtellinese cinque mesi fa. In totale, il costo della giustizia nel 2014 raggiunge il 1.300.000 euro, quello del personale, i 2.600.000 euro. Per quanto riguarda le entrate, i sequestri probatori raggiungono il 1.311.000 euro. La tempistica migliora, con i procedimenti penali a carico di personaggi già noti, calati dai 336 giorni del 2011 ai 316 del 2014, con il 55% delle cause esaurito nei primi sei mesi. L'organico, oltre a procuratore capo, si completa con cinque sostituti, sei vice procuratori onorari, 22 membri dell'amministrazione e 12 elementi di polizia giudiziaria. Una situazione generale dunque, commenta Gittardi, a meno di sei mesi dal suo insediamento, che distingue la procura del capoluogo valtellinese per la sua veocità ed efficienza. Il CAI di Aprica mantiene la promessa, le 10 nuove baccheche che ospiteranno gli altrettanti pannelli del percorso tematico Il Legno e Vita sono in fase di realizzazione. Il primo prototipo è già bozzato, robusti travetti di larice incrociati sostengono il rettangolo espositivo di quasi un metro quadrato, su di esso sarà fissato sopra assi sempre in l'arice ciascuno dei pannelli originali. Il percorso tematico di cui stiamo parlando, anche detto semplicemente percorso del legno, inizia poco a est dall'agriturismo Magnolta e raggiunge il rifugio Valtellina in Palabione, passando nella parte centrale lungo una delle due piste di collegamento incrociate che nella stagione estiva è divenuta il passaggio preferito tra l'una e l'altra zona alta di Aprica per la sua agevole percorribilità. Acqua, fonte preziosa per il nostro territorio e anche per le nostre case. Vediamo come vengono fatte le analisi. La nostra acqua è garantita e di qualità. A confermarlo è la SECAM, da luglio gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia di Sondrio, che con il suo laboratorio di analisi esegue 4.500 controlli verificando circa 50 parametri, come confermato dall'amministratore delegato di SECAM, Gildo De Gianni. È un compito molto importante questo del controllo della qualità dell'acqua, peraltro obbligato dalla legge. SECAM attraverso i suoi laboratori compie tutte le analisi di carattere chimico e microbiologico che garantiscono che l'acqua che arriva nelle case dei nostri cittadini sia acqua di qualità e assolutamente potabile. I controlli, spiegano Annalisa Morella e Francesca Garlaschelli, giovani sondresi laureate in chimica e tecniche di laboratorio MSECAM, coordinati dai responsabili del servizio qualità Paola Ruffini. Vengono effettuati sia sulle acque destinate al consumo umano, sia su quelle reflui o di scarico. I controlli vengono pianificati a novembre per l'anno successivo e vengono praticamente decisi tutti i punti di prelievo e poi settimanalmente vengono decisi i comuni da controllare. Si va da un minimo di 4 controlli l'anno fino ad arrivare circa a 12 controlli l'anno su ogni comune. Come per le acque potabili, a novembre viene stabilito il programma per le analisi dell'anno successivo e vengono controllati sia gli scarichi che l'acqua in ingresso ai depuratori. Anche lì dipende un po' dalla portata del depuratore quante analisi vengono eseguite, ma si va sempre un massimo di 24 volte all'anno per i depuratori più grandi, un minimo di circa sei volte per i depuratori più piccoli, mentre per alcuni depuratori per cui non sono previsti dei controlli di legge vengono comunque fatte delle verifiche periodiche durante l'anno. Un'attività intensa di controllo, superiore rispetto agli standard dettati dalla legge, spiega Paola Raufini, questo per poter garantire l'eccellenza. L'acqua è sicuramente di buona qualità, questo laboratorio è tra l'altro certificato secondo la norma 9001-2008 che detta praticamente tutte le regole che SECAM segue proprio per ottenere un prodotto di alta qualità. Nel 2016 tutti i cittadini avranno la possibilità di poter controllare di persone a resoconto delle analisi di qualità dell'acqua accedendo al sito di SECAM. L'approfondimento della tematica dell'autismo, l'allargamento del progetto sul bullismo e programmi per l'integrazione nelle scuole. Sono questi gli obiettivi che si è prefissato il club Soroptimist di Sondrio presieduto da Sandra Pellizzatti che settimana scorsa si è riunito in assemblea accogliendo sette nuove socie. Il sodalizio al femminile nato nel 1921 a Oakland negli Stati Uniti che conta 146 club in tutto il mondo ha infatti come obiettivo la promozione di progetti concreti durevoli nel tempo finalizzati a migliorare la condizione delle donne nella società e ad affermarne il ruolo. Prossimo appuntamento del sodalizio venerdì alle 18 presso la Sala Vitali del Credito Valtelinese dove si parlerà di energia idroelettrica con i ricercatori dell'Università Bocconi, Federico Pontoni e Alessandro De Carli. Siamo in chiusura prima di lasciarvi vi ricordo il sito www.radiotsn.tv i social Facebook e Twitter sempre Radio TSN poi YouTube per poter rivedere questi ed altri servizi realizzati a cura della redazione di Telesondrio News. Mi fermo qui, spazio allo sport con Elisa Compagnoni grazie per essere stati con noi al prossimo appuntamento con l'informazione. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Questa sera apriamo con la Corsa Campestre, appuntamento da non perdere domenica a Lanzada con il Cross de Pradash. Domenica 29 novembre scopriremo i nuovi rei regina della Corsa Campestre e provinciale. A Lanzada si correrà il Cross de Pradash, quarta e ultima tappa del circuito CSI e valida come prova unica per il campionato provinciale individuale organizzata dalla sportiva Lanzada. Ad aprire la Kermes questa volta ci penseranno alle 10 le categorie assolute Senior e Master, seguite da quelle degli allievi. Spazio poi nuovamente ai più piccini, con le categorie preemozionali fino ai cadetti. Lo scorso anno a dominare la scena ci avevano pensato Alessia Zecca, purtroppo assente perché impegnata nella selezione per i campionati europei di Cross e Francesco Della Torre, dopo un serrato testa a testa con Stefano Sanzi e Marco Leoni. Proprio quest'ultimo ha già confermato la presenza ai nastri di partenza, con firma ribadita inoltre dal grande specialista del mezzofondo Graziano Zugnoni. Ci sarà dunque da divertirsi sui prati di Pradash, sul percorso saliscendi che certamente metterà ad una prova muscoli e gambe dei corridori, con i suoi continui cambi di ritmo e brevi salite. Ma prima di concentrarsi sulla competizione vera e propria, non dimenticate l'appuntamento di sabato presso l'oratorio di Lanzada, con il convegno e i nuovi orizzonti assistenziali in campo urologico, programmato per le 19 e 15 assieme agli amici dell'associazione Gianluca Strada. Si chiederà in bellezza con una pizzata in compagnia, occasione per ricaricare le batterie in vista del cross di Pradash, che gli organizzatori sperano possa essere partecipato come lo scorso anno. E continuiamo a parlare di atletica. Come avevamo già annunciato, c'è anche la nostra Roberta Ciappini, fra gli sportivi segnalati dalla FIDAL, quale miglior atleta nel 20 dell'anno. Il sondaggio aperto sulla pagina della FIDAL Lombardia di Facebook sta vedendo in prima linea la runner del CSI Mormegno, che momentaneamente si trova in seconda posizione con 439 like, contro il 731 della finalista mondiale under 18 dei 400 ostacoli Ilaria Vergiero. Ma c'è ancora tempo per poter sostenere la nostra Roberta, entrando nella pagina Facebook di FIDAL Lombardia, entrare nella sezione foto e cliccare mi piace alla sua foto, entro le 12 del 18 dicembre. E ora invece passiamo al rally. Il Monza a Rally Shoser ci dà un richiamo a cui sembra difficile sottrarsi. Dopo avervi già gariggiato in altre 4 occasioni, Marco Giannisini è pronto a mettersi nuovamente in gioco sul sinuoso asfalto dell'autodromo Lombardo, assieme all'amico Marco Bengorsi, sulla Bejo 207 S2000 della scuderia Veneta a Toprelli. L'equipaggio Lombardo partirà con il numero 77 e dovrà vedersela con un cospicuo numero di avversari. Saranno ben 30 i concorrenti che si conteneranno la classe, tra questi Pierotti di indubbio valore, tra i quali Baldacci, Artino e Ferrarotti. Il Monza a Rally Show partirà venerdì sera 27 novembre, per poi concludersi domenica 29. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi auguro buona serata e a sentirci domani amici sportivi.